Intanto in politica i segnali sono tutto. Vedere che in questo consesso così importante non c'è nessun deputato della maggioranza lascia ben capire, e io non sono nemmeno stato eletto a Palermo, comunque ritengo che sia un problema che riguardi tutta la Sicilia. Innanzitutto istituiamo la riserva naturale. Questo atto non c'è, è stato fatto un passaggio iniziale nella scorsa legislatura grazie all'onorevole Di Caro e 5 Stelle, ma di fatto però ad oggi questa non è riserva naturale. L'esercito fa il suo lavoro, nessuno dice che l'esercito sta sbagliando, però questa zona, che è una zona fondamentale, importante, strategica, che potrebbe essere al centro del turismo non soltanto agrigentino ma della Sicilia, non può essere utilizzata in questa maniera perché grida allo scandalo. Punta Bianca, come molte altre località costiere dell'agrigentino, Torresalsa, Scala e Turche, rappresenta una delle perle naturaliste del territorio agrigentino. La natura non ha confini, quindi tutto quello che succede al di là dei confini, del perimetro della riserva, incide notevolmente, spesso purtroppo negativamente all'interno di un'area protetta. E' per questo che quello che succede fuori a Punta Bianca, al di là dei confini oggi della riserva, va ridotto se non annullato. Siamo ancora qui per l'ennesima volta a protestare contro le esercitazioni militari, ancora oggi, nel 2023, dopo 64 anni, questo scempio in un'area destinata a riserva. Questa storia deve finire, il Presidente della Regione deve trovare loro un posto alternativo e deve istituire definitivamente la riserva di Punta Bianca. Grazie.